Le 20.30 di nuovo una buona serata dagli studi VTG 2000. In primo piano la nuova tragedia del mare. Un'imbarcazione si è ribaltata a largo delle coste libiche. Nel naufragio sono morte almeno 34 persone, fra cui molti bambini. E si teme ci possano essere altri dispersi. Stefania Squarcia. Decine di puntini arancioni come quei giubbotti salvagente che li tengono a galla. Bisogna fare presto, soccorrere con ogni mezzo chi è riuscito a rimanere vivo, in mare aperto. Il nostro mare, il mare Nostrum, lo chiamavano i latini. Sono le prime drammatiche immagini di una nuova tragedia a circa 30 miglia dalla Libia, a largo di Zuara, a due passi dall'Italia, ma ancora in acqua internazionali. Arrivano le prime braccia tesi ad aiutarli dopo ore di sofferenza in balia del mare, sotto il sole che picchia forte. C'erano 500 migranti su questo barcone azzurro, ma c'è chi dice 700. Stracarico, ben oltre le proprie capacità. A tal punto che è bastata un'onda grossa o forse lo spostamento di un gruppo di persone durante il tragitto perché l'imbarcazione si inclinasse su un fianco. Più di 200 sono finiti in acqua ed è stato il panico. Gli altri sono riusciti a rimanere a bordo. Finora avvistati almeno 31 corpi senza vita. Quelli già recuperati sono stati sistemati qui, sul ponte di nave Phoenix. Molti di questi erano bambini, perché il mare permette solo al più forte di farcela, di vincere quella sfida che sembra impossibile. E si teme che tante altre persone possano essere annegate. L'equipaggio di nave Fiorillo, della Guardia Costiera Italiana e della ONG MOAS stanno continuando a recuperare superstiti. Nell'area si stanno dirigendo altre unità navali per cercare eventuali dispersi. Il mare piatto ha moltiplicato le partenze e sono in aumento le imbarcazioni dirette verso i porti italiani. È una maratona dei soccorsi. Solo oggi sono state 15 le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. 1.700 immigranti salvati. Svolta nelle indagini sull'attentato di Manchester, sette persone sono state arrestate per presunti legami con il kamikaze, compresi il padre e il fratello. Quest'ultimo ha ammesso di far parte dell'ISIS e di aver partecipato all'organizzazione dell'attacco. Silvio Vitelli. L'Unione Europea mette da parte i rancori per la Brexit e col silenzio si stringe intorno agli inglesi, che temono ora nuovi attentati. L'allerta è passata a livello massimo. Sul fronte delle indagini, la polizia dichiara che Salman Abedi, il giovane attentatore, faceva chiaramente parte di una cellula terroristica islamica. È dunque caccia ai complici. Oggi le teste di cuoio hanno compiuto il raid in quello che potrebbe essere l'appartamento usato per assemblare gli ordigni. Un'esplosione ha dato il via all'operazione militare. C'è poi il capitolo relativo alla famiglia dell'attentatore. Arrestato in Libia il fratello minore di Salman, a quanto sembra, stava preparando un attentato a Tripoli. A far scattare l'operazione è stato il fatto che abbia preso in consegna una somma consistente di denaro inviatagli da Salman. Durante l'interrogatorio ha ammesso di far parte, insieme al fratello deceduto, dell'ISIS. E di essere stato in Gran Bretagna durante la preparazione dell'attentato. Arrestato sempre a Tripoli anche il padre. Sky News Arabia riporta documenti dell'epoca di Muammar Gheddafi, secondo cui sarebbe stato un componente dell'organizzazione islamica armata legata ad Al-Qaeda. Infine la sorella minore, 18 anni, 5 giorni prima della strage, aveva cambiato l'immagine del suo profilo Facebook con una donna vestita con il niqab, il velo integrale islamico, alimentando sospetti su una sua radicalizzazione. Oltre agli arresti compiuti a Tripoli, altri 5 sono scattati in Inghilterra. Con buona probabilità, la lista è destinata ad allungarsi. E siamo alla visita di Donald Trump nella capitale. Stamattina l'udienza in Vaticano, un incontro molto atteso in cui Papa Francesco e il Presidente hanno affrontato diversi temi, immigrazione, dialogo interreligioso e promozione della pace nel mondo. Presenti anche Melania e la figlia di Donald Trump, Ivanka. Paolo Fucili. Il protocollo in Vaticano è lo stesso per tutti i capi di Stato, ma dopo tanto parlare di divergenze, molte e affinità poche tra i due, quella del Papa oggi a Donald Trump non era un'udienza qualunque. Prova ne è, forse anche l'aria pensierosa di Francesco, prima del faccia a faccia a porte chiuse col neoeletto Presidente degli Stati Uniti. 29 minuti di colloqui cordiali è l'aggettivo usuale della Sala Stampa Vaticana in questi casi, quanto piuttosto ai contenuti, compiacimento per l'impegno comune Santa Sede Stati Uniti per la vita, la libertà religiosa e di coscienza e serena collaborazione come auspicio nei campi salute, educazione, assistenza agli immigrati, sintetizza un comunicato, poi attualità internazionale e promozione della pace tramite il negoziato politico e il dialogo interreligioso, specie in Medio Oriente, infine la tutela delle comunità cristiane. Nulla di imprevedibile a conti fatti, però l'atmosfera alla fine è molto più cordiale. Ora il discorso cade anche con la moglie Melania, slovena di nascita, su un dolce di quel paese, la putizza, anche se la first lady pare non capire. Infine il consueto scambio dei doni, libri soprattutto. Per il Papa c'è un cofanetto con scritti di Martin Luther King, per il Presidente il messaggio papale per l'ultima giornata mondiale della pace, perché lei sia strumento di pace. Augura Francesco allegando anche i suoi Evangelii Gaudium, a Moris Letizia e laudato sì sulla cura del creato. Li leggerò tutti, assicura Trump, che saluta con un'impegnativa promessa. Non dimenticherò quel che mi ha detto. Subito dopo l'udienza con il Papa, Trump e Melania hanno visitato San Pietro e la Cappella Sistina. Poi si sono divisi, Trump ha incontrato Mattarella e Gentiloni, mentre Melania è andata a portare il suo saluto ai piccoli del bambino Gesù. Nicola Ferrante. Dopo l'incontro con Francesco, la visita ai tesori vaticani e sarà per lo splendore che li circonda sotto le arcate della Basilica di San Pietro, i due coniugi Trump finalmente si prendono per mano. Pizzo nero velo sul capo, come nella più tradizionale delle etichette, Melania osserve il protocollo con un rigore ormai infranto da molte altre first lady e tutto il seguito femminile, a cominciare dai banca, si allinea all'antico dress code, che impone abito nero e capo coperto. Lunga la sosta davanti alla pietà di Michelangelo, ad accompagnarli il cardinale Angelo Comastri, arciplete della pontificia basilica, che racconta di quando negli anni 60 la scultura volò fino a New York. Lì vicino anche l'altare dove è sepolto San Giovanni Paolo II, la coppia presidenziale compie una breve sosta. Poi la figlia Ivanca si avvicina alla statua di San Pietro e chiede di toccarne il piede. E da lì giù nelle grotte vaticane, proprio sulla tomba dell'Apostolo. Ancora mano nella mano per fare ingresso in Cappella Sistina, naso all'insù per ammirare il giudizio universale di Michelangelo. C'è il tempo per qualche spiegazione. Poi le strade si separano. Donald Trump prosegue con gli incontri ufficiali e lei, Melania, visita l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Primo atto l'omaggio floreale davanti alla statua della Madonna dei Miracoli. Melania fa il segno di croce, poi molto meno tesa rispetto alla prima parte della mattinata, entra nelle corsie dell'ospedale Vaticano, visita la terapia intensiva del reparto di cardiologia, accompagnata dalla presidente Mariella Enoch. Tanti gli scatti, fra cui anche la foto, al cui fianco abbraccia un adolescente col velo islamico. La figlia Ivanka invece in visita alla comunità di Sant'Egidio a Trastevere. Qui si intrattiene per tre quarti d'ora con un gruppo di donne, molte delle quali nigeriane vittime di tratta, la cui vita è ripartita grazie all'impegno di Sant'Egidio. Voglio sostenere anche io ciò che fate, non solo qui a Roma, ma in ogni angolo del mondo il saluto della figlia del presidente. Cambiamo argomento, veniamo alle parole del nuovo presidente della conferenza episcopale italiana. Non ho programmi preconfezionati da offrire perché nella mia vita sono sempre stato abbastanza improvvisatore. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, questa mattina in una breve dichiarazione, subito dopo la nomina, il mio primo pensiero riconoscente va al Santo Padre, ha detto Bassetti, per il coraggio che ha mostrato nell'affidarmi questa responsabilità al crepuscolo della mia vita. Segno, ha sottolineato, che crede nella capacità dei vecchi di sognare. Lavorerò insieme a tutti i vescovi, ha proseguito Bassetti, cui sono grato per la fiducia che mi hanno assicurato. Così come sono grato al mio predecessore, il cardinale Bagnasco, che al nuovo presidente ha concluso Bassetti, ha augurato di essere se stesso ed è quello che io desidero dal profondo del cuore e intendo fare. Ma allora sentiamo le parole dei suoi confratelli, raccolte a caldo da Cristiana Caricato. Il Santo Padre mi ha detto di comunicare io la sua decisione e quindi l'ho fatto in un contesto poi molto bello che è quello della Santa Messa, dopo aver celebrato insieme. L'annuncio dato dal predecessore, le felicitazioni e gli abbracci da prima in sacrestia per accompagnare poi l'intera giornata. La nomina del cardinale Bassetti alla presidenza della CEI mette d'accordo tutti. Eravamo rettori insieme, lui a Firenze e io a Napoli. c'è una comunione profonda, quindi sono convinto che porterà avanti il lavoro della conferenza con l'aiuto di tutti gli organismi della CEI in un modo che sarà certamente molto fruttuoso. Personalmente è un fratello, un amico, quindi sono contento. Mi ha sempre dato l'impressione di essere un uomo, come dire, appunto, un vero pastore, innamorato di Gesù, di Cristo, e desidero dopo di vivere in maniera appunto appassionata e semplice al servizio. La scelta del Papa corrisponde alla scelta dei vescovi, perché è stato il primo e il più votato. Bassetti ha ottenuto la fiducia dei vescovi giovani e di quelli più anziani, ma un signor Catella, coetaneo, amico di lunga data, ne dà un giudizio viziato dall'affetto. Saprà aiutarci a far tesoro, ecco, a far tesoro delle sue esperienze, a confrontarci con lui, perché è un uomo che non impone, che propone, con cui si dialoga con molta facilità, con quella capacità di ironia toscana che non guasta mai, davvero molto, molto contento. Contento anche chi era finito con lui nella lista sottoposta al Papa. Lui con quel cuore che ha, il Carinal Bassetti, con quella disponibilità, ma anche con quell'amabilità che dimostra e credo che ci aiuterà tutti a continuare il cammino, anche con passo spedito. E domani alle 13.30 potremo seguire in diretta su TV2000 la conferenza stampa del neopresidente della CEI, Cardinal Bassetti. Ecco la grafica. Per la presentazione del documento finale della settantesima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Dunque, appuntamento alle 13.30 su TV2000. La cronaca che ci porta a Reggio Calabria dove Don Giorgio Costantino è stato aggredito con violenza dopo aver rimproverato alcuni ragazzi che avevano forzato il cancello d'ingresso del cortile della parrocchia. Adesso il sacerdote è in coma. Leonardo Possati. Un complesso intervento chirurgico durato ore per rimuovere un ematoma alla testa causato dalle violente botte subite. La vita di Monsignor Giorgio Costantino, il parroco della Chiesa della Madonna del Divin Soccorso di Reggio Calabria, non è più in pericolo, ma rimane in prognosi riservata. Le condizioni neurologiche permangono gravi e quindi una situazione critica. Faremo a breve un'attacca di controllo e valuteremo ulteriormente la situazione. I fatti risalgono la notte scorsa quando Don Giorgio ha scoperto sette giovani fra i 16 e i 20 anni che si stavano introducendo nei locali della parrocchia. Il sacerdote li ha richiamati e invitati a uscire, ma i ragazzi, da quanto emergerebbe da un video delle camere di sorveglianza, lo avrebbero circondato, quindi uno di loro avrebbe colpito il sacerdote con pugni e un calcio. A quel punto sarebbero intervenuti gli altri che avrebbero fermato e allontanato l'aggressore mentre uno dei ragazzi si sarebbe anche fermato per prestare un primo soccorso a Don Giorgio. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri e il sacerdote è stato portato all'ospedale. Adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti e soprattutto di rintracciare i ragazzi. Mentre l'intera comunità regina si stringe attorno al suo sacerdote, uomo eclettico, musicista, docente al conservatorio musicale e giornalista. Nel 2005 Don Giorgio è stato anche portavoce del Sinodo dei Vescovi. Attendiamo che tutto proceda bene, con fiducia, con speranza e invocando Santa Maria, madre del divino soccorso e la patrona della parrocchia del soccorso. Continuiamo a pregare con fiducia e speranza. E siamo al minuto D, come ogni mercoledì, con Luis Badiglia che commenta l'incontro odierno in Vaticano fra il Papa e Trump. Importante, rilevante, significativo l'incontro del Santo Padre oggi con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incontro molto atteso e sul quale si era scritto moltissimo, nel bene e nel male. Oggi i due si sono incontrati, hanno fatto amicizia e si sono detti sicuramente delle cose importanti. Da questo incontro l'umanità tutta non può aspettare se non buoni frutti. Perché la cosa significativa, rilevante del momento è che i grandi leaders politici, morali, religiosi contribuiscono con il loro operato, con le loro parole, con i loro gesti, contribuiscono a quello che il Papa le ha detto a Trump stamani consegnandole un dono, alla pace, alla pace nel mondo, affinché vengano a meno tutte le ingiustizie e le lacerazioni che dividono e antagonizzano popoli e civiltà. Siamo alle anticipazioni di TGTG, in studio Cesare Cavoni. Cesare, buonasera. Buonasera, Papa, terrorismo e molto altro, fra pochissimo. E allora, pochissimi secondi, TGTG, vi lascio con la sigla e i titoli di apertura degli altri TG della sera. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.